Buongiorno a tutti, questa mattina i deviati di Roma, servizi segreti deviati dei reparti operativi speciali di Roma che operano per la sperimentazione e il collaudo sui bambini delle alte tecnologie della manipolazione cerebrale, dicono anche che fanno esperimenti a via di Roma, reparto o psichiatrico o pediatrico e all'interno del bambino, dove vengono effettuati esperimenti per il controllo della mente a distanza attraverso puntamenti satellitari che inducono i bambini a una totale tortura e una totale agonia che devono essere per forza legati sui letti e li devono imbottire di tranquillanti, psicofarmaci e addirittura antidolorifici fortissimi fino alla morfina continua. Nello stesso tempo i bambini vengono legati sui letti e vengono effettuati gli esperimenti puntando il satellite spia che sta a nord, che si amplifica sui lampioni e si amplifica sulle luci all'interno delle stanzette, dove vengono riamplificate le frequenze a pressione sul corpo del bambino e dentro al cervello del bambino, fino ad arrivare a dei spasmi strazianti di dolori con ustioni elevatissime attraverso le frequenze delle microonde, attraverso le frequenze degli ultravioletti, attraverso le frequenze dell'ustione sul corpo che portano il bambino a un'atroce morte di sevizie e torture attraverso il sistema del controllo e del collaudo dei satellite di spia che stanno a nord. Voglio ricordare che i satellite di spia che effettuano gli esperimenti sui bambini sono geostazionari e possono essere pilotati dall'Italia, in qualunque parte d'Italia essi siano con i laboratori e su qualunque furgone con un sistema di ricezione, sia con il neuroconvertitore a particelle ad onde convogliate a frequenze di luce, ossia attraverso le radiofrequenze indotte in banda S criptata che dal satellite immette una sorta di trasponder alla macchina o alla vettura dove ci sono i trasmettitori in banda di trasmissione. Quando andavo a via dei satellite, perché volevo vedere per quale motivo si sentivano questi anomali bambini collegati, mi sono accorto di questa cosa perché stando vicino al policlinico Umberto I all'interno dell'università La Sapienza, io camminavo per strada e vedevo delle mamme con questi bambini che all'apparenza erano bambini normali, ma questi bambini tutto un tratto si fermavano, incominciavano ad urlare, incominciavano a parlare da soli guardando il cielo e incominciavano ad avere dei scatti fortissimi di ira. La cosa anomala che ho rilevato è che quando mi avvicinavo vicino a questi bambini, le ustioni che i bambini avevano le rilevavo anche io e avevo ustioni negli occhi, nei condotti uditivi, nel cervello, sul corpo, nel midollo osseo, all'interno del cuore. Allora io mi sono avvicinato un giorno vicino a una mamma, lo potete vedere attraverso i sistemi avanzati delle intercettazioni ambientali e i sistemi avanzati del pedinamento a tracciatura diretto satellitare con localizzazione geografica che si vedeva perfettamente che stavo davanti alla mamma e il bambino stava davanti a me all'interno del cortile. E lo potete vedere in tracciatura satellitare e potete andare a rivedere tutti i filmati e tutte le registrazioni attraverso i database del centro operativo di elaborazione dati nazionale della difesa. Questo è per i riservizi che mi stanno torturando adesso in testa, eh? Che mi hanno detto, sto dicendo tutte cazzate, eh? Quando mi avvicinai vicino a questi bambini, come avevo sentito già le frequenze all'interno del CIM, Centro Igiene Mentale, abbiamo detto, se pensate che una ragazza stava seduta all'interno di una stanza, quando io sono arrivato davanti alla porta perché volevo capire che cosa stava succedendo, volevo addirittura spaccare tutto per farli uscire queste persone dall'interno di quel luogo dove stavano effettuando la scansione perimetrale diretta a parametri da particelle di luce con amplificazioni di onde convogliate diretta all'interno del corpo e nel cervello con amplificazioni multiple dei puntamenti satellitari nei centri nervosi, pensate che gli dicevano questa mattina facciamo tutti quanti i caniolini attaccati alle finestre in comunicazione dell'epatica diretta, eh? E tutti si dovevano alzare e si dovevano mettere vicino alle finestre tutti a fare i cagnolini. Se qualcuno non faceva il cagnolino, gli operatori sperimentatori del controllo della mente a distanza attraverso i satelliti spia puntavano nel cervello di queste persone le frequenze delustioni e venivano torturati talmente tanto che erano costretti a forza a mettersi vicino alle finestre e a fare il giochetto. Ho dovuto bloccare la registrazione perché mi hanno creato un blocco polmonare respiratorio e un blocco visivo forzato. Si sono collegati all'interno del centro della stanza e stanno amplificando dalla luce sopra il lampadario tutte le frequenze di disturbo, di pressioni cerebrali e frequenze di amplificazione diretta perché usano dei traspondere a frequenze di luce in alternata che amplifica il puntamento del satellite all'interno di una stanza creando una particella di frequenza a ionizzazione diretta che crea la manipolazione dei centri nervosi e le frequenze degli ustioni. Hanno detto dillo ad alta voce che siamo servizi segreti esterni perché così hanno detto adesso i servizi segreti adesso stanno parlando con questo sistema e hanno detto abbiamo ammazzato 15 milioni di persone. Si è sentito adesso nei venti laboratori abbiamo ammazzato 15 milioni di persone in Italia dal 1965 e mai nessuno ci ha processato chissà perché come farete voi quattro cavie umane che state su internet a sgominare una rete che opera da 45 anni ad effettuare esperimenti su cavie umane e ad effettuare manipolazioni cerebrali per far vendere sostanze stupefacenti alla popolazione italiana inducendo tossicodipendenti a soprapposizione di frequenze celebrali sotto torture e manipolazioni della cronazione delle frequenze delle gravissime dipendenze all'interno del cervello. Ecco perché quando mi avvicinavo vicino alle scuole mi facevano allontanare perché avevano paura che rilevavo le frequenze delle scuole che stanno vicine alle case popolari il quale hanno detto dobbiamo creare il blocco celebrale della deduzione dell'apprendimento quando stanno nelle scuole in modo che gli si blocca il cervello e entrano in alfabetismo. L'alfabetismo che cosa fa? Crea una sorta di depressione al bambino e il bambino non pensa più di andare a scuola ma pensa di andare a fare scippi ma pensa di andare a fare rapine pensa di andare a fare furti pensa di andare a comprare la droga pensa di prendersi le pasticche mentre sta nelle discoteche o sta nei posti nei posti serali o da ballo. Questo è la manipolazione del cervello diretta all'interno dei centi nervosi. Gli altri ufficiali che sono arrivati stamattina perché il sabato e la domenica delle società dove effettuano le sperimentazioni al collaudo delle alte tecnologie dei satelliti spia che vengono poi venduti per miliardi di euro alle forze armate di tutto il mondo alle forze armate italiane questi satelliti devono essere collaudati e attestati e chi è che si metterebbe addosso una frequenza per anni e anni e anni per vedere che tipo di metastasi tumorali ti fa venire o per vedere che tipo di ischemia cerebrale ti fa venire o che tipo di trombosi? Io sono stato al Quirinale e c'era il Presidente della Repubblica a mezzo metro da me. La coincidenza è stata che quando non c'era il Presidente io stavo benissimo, quando c'era il Presidente stavo malissimo. Il Presidente non me ne era neanche accorto che era arrivato. Ho sentito le frequenze delle gravi patologie sul mio corpo che venivano aumentate come se mi volevano incitare a fare del male al capo dello Stato. O come se mi volevano incitare alla aggressività verso il capo dello Stato. La prima cosa che ho fatto, ho detto brutti bastardi pezzi di merda, levate queste frequenze su questa povera persona che sta lì a rappresentare l'Italia. E invece questi pezzi di merda dentro i giardini del Quirinale, davanti alla porta retro dove c'era il banchetto effettuato dal Quirinale, effettuato dal Presidente della Repubblica, effettuato da tutti i ministri e senatori che stavano arrivando per la festa delle forze armate, hanno amplificato talmente tanto le frequenze nel cervello, sul corpo e nei polmoni che hanno detto l'ha capito bene che non è pazzo, che non è la schizofrenia. Perché gli sta adalzando così forte le frequenze sul corpo? Perché gli sta dando la denuncia che ha portato alla caserma di Carabinieri e che hanno telefonato quel giorno quando io stavo dentro la caserma, gli hanno detto prendila ma non trascrivere la denuncia al tribunale e non protocorrarla al tribunale. Infatti la denuncia è sparita nel nulla. Sono andato a ricercare il marisciallo che era il comandante della caserma non c'è più, sparito pure lui, non si sa che fine ha fatto. Il ragazzo ha detto scusa ma c'era questo marisciallo così così così? Io ho parlato con lui, sono stato qui un'ora, io ho spiegato che cosa mi facevano con questi sistemi, con questi sistemi a tracciatura, con questi sistemi a pedinamento, con questi sistemi a controllo della mente a distanza. Lo sai che ha detto il marisciallo? Ha detto ma noi non abbiamo questi tipi di tecnologie, non possiamo operare con questi sistemi. Questi sono sistemi troppo avanzati. Noi facciamo delle semplici indagini, noi utilizziamo delle semplici intercettazioni, diciamo ma qui si parla addirittura di tecnologie futuristiche, io ho detto non sono tecnologie futuristiche, vengono collaudate sulle cavi umane, vengono collaudate e attestate sulla popolazione in massa e queste frequenze creano danni devastanti alle persone che si svegliano. Il funzionamento dell'alta tecnologia è creato in questo modo, lo rimettono nel cervello di mille persone una frequenza primaria. La frequenza primaria viene alzata sempre di più, sempre di più, sempre di più. Alla fine le otto frequenze del cervello incominciano ad entrare in un blocco, si chiama narcolezzia, ipnosi indotta e lobotomia cerebrale. Una volta che la frequenza del dolore è entrata nel cervello, che viene analizzata attraverso gli analizzatori di spettro che effettuano le scansioni fisiognomiche, hanno acceso adesso il frigorifero e stanno alzando le frequenze dei campi elettromagnetici fortissimi all'interno del mio cervello e mi stanno facendo sentire il rumore amplificato di mille volte nei condotti uditivi del rotore del frigorifero. Si chiama tortura indotta attraverso i parametri di amplificazione di campi elettromagnetici a scordinamento neurale. La prima cosa che dicono quando si va a fare un elettroencefalografo è di levare i cellulari e di levare qualunque tipo di apparecchiatura radio perché crea una sorta di scompensazione e una sorta di malfunzionamento dell'elettroencefalografo creando dei danni sia all'elettroencefalografo e dei danni sia all'analisi che deve fare l'elettroencefalografo. E loro adesso stanno amplificando le frequenze del frigorifero. Vi faccio vedere, non ho la telecamera per farvi vedere, il frigorifero sta a 5 gradi. 9 gradi per l'esattezza. Com'è possibile che il frigorifero sta a 9 gradi? Fuori fa fresco e il frigorifero parte quando io sto facendo solo il video? Se io mi levo dalla cucina il video non parte più il frigorifero. Ma guarda che strana coincidenza, eh? Che strana sta coincidenza. Adesso ho spento il frigorifero e sono diminuiti tutti i rumori all'interno del cervello. Sono diminuiti tutti i disturbi neurali. E' diminuita una parte della temperatura nei centri nervosi. Ma che strana coincidenza. Una cosa passiamo a un'altra. Non mi hanno fatto andare alle manifestazioni di Roma perché hanno detto che avrei rilevato le manipolazioni cerebrali satellitari a frequenze a pressione diretta all'interno del cervello delle persone perché hanno scansionato tutto il perimetrale delle strade dove dovranno passare i manifestanti. Attraverso una sorta di frequenza di controllo deduttivo ad amplificazione dell'aggressività a comando manciuriano. Attraverso il sistema satellitare amplificano le otto frequenze del cervello che sono uguali a tutte le persone nel mondo e immettono l'irrascibilità, la rabbia, l'aggressività e il blocco deduttivo e il blocco del reato. Cioè, gli isticano a forza con il satellite spia nel cervello ad attaccare le forze dell'ordine. inermi e innocenti per creare una sorta di scandalo sia visivo e sia giornalistico e per far sì che le società che progettano armi ad energie dirette che progettano sistemi satellitari che progettano altre tecnologie che progettano sistemi di telecamere a scansione fisiognomica a scansione visiva, a scansione corneale vengano vendute alle forze armate italiane le forze dell'ordine con molta più facilità per miliardi di euro un saluto amici